Presidente, effettivamente il Movimento 5 Stelle ha questo ingrato ruolo spesso in quest'Aula di dover smascherare quelle che sono le promesse vane, ecco questa a noi sembra una promessa vana anche perché viene proprio dalla maggioranza, quel partito di maggioranza che ha la sventatezza, perché così possiamo chiamarla, di inserire all'interno di una sua mozione una frase che dice una vera alternativa sul ferro è impraticabile, beh questa è vergognoso perché invece di fare promesse di tavoli, di concertazione, vi ricordo che voi dovreste creare, elaborare un serio piano del traffico regionale, ecco questo è quello che dovrebbe fare una maggioranza e un'altra cosa, questa è sicuramente una mossa politica perché avete un po' bisogno di consensi quindi sì facciamo una bella promessa che ci impegneremo a portare questa trattativa al governo beh quando porterete questa trattativa al governo dovete anche sapere che incentivando i pendolari si incentiva il traffico su auto e questa non è una cosa che dal vostro programma risulta non mi sembra che siano queste le intenzioni, ecco magari incentivate un altro tipo di trasporto visto che avete i mezzi e i modi di farlo e poi un'altra cosa, politicamente parlando consigliere Storace mi dispiace che anche lei si informi esclusivamente sui mezzi di stampa controllati da regime beh vede, noi stiamo facendo costruzionismo non per far pagare l'IMU ma per una cosa molto semplice che nessun giornale di regime dice ma perché voi centrodestra e centrosinistra all'unanimità state svendendo Banca Italia grazie